Ciao a tutti ragazzi, siamo Spuma Crew Family, volevamo anche presentarci personalmente e inizieremo col dire ognuno il proprio nome, inizio io, il proprio nome, noi abbiamo fatto questo video per farci conoscere un po', al di là dei video montati che avete visto sul nostro canale, che magari vi stanno antipatici perché sono un po' montati e sì, un po' così e no vabbè, avevamo buttato giù qualche idea però siamo al quarto piano quindi ha fatto una brutta fine, però va bene, se volete vi facciamo vedere così su due piedi il numero che abbiamo pronto per l'emergenza, questo è il numero che usiamo per le emergenze, bene anche questa, questa era bella eh, alla fine siamo qua, però no ma io avevo un'idea però, io avevo un'idea, era giù, era parcheggiata dintro, questa era proprio la peggiore, eh sì, la peggiore, eh sì, la peggiore, no nel mondo dove l'era, basta, c'era un nuovo progetto, Ammazzo la roba, che si è detto Amazzo? Amazzo, sì sì, c'era, appunto noi io, volevamo questo appunto, questo non lo ho fatto proprio, bene, volevo illustratvi il nostro nuovo progetto, ecco, guardate, avvicinati, c'è il bagno, ma c'è il bagno, la cucina, no? No vabbè, vogliamo un po' farci conoscere per come siamo appunto, sai chi è appunto? La Vespa, la peccata, vabbè siamo tre ragazzi, io e lui siamo di Milano, di proprietà di Milano No, poi la cosa, la cosa importante è che non vorresti dire di dove sei, infatti sto dicendo che è una cosa importante, devi dire di dove sei, no no, di dove sei, vuol dire dove sei, no ma la cosa importante è che volevo parlare come è nata questa storia, non volevamo proprio spiegarvi, volevamo davvero raccontarvi come è nata, però poi abbiamo cambiato idea qui in base, è perché c'è la... Sì sì, abbiamo cambiato idea, bianca, lo sai, no, sei regalato, è proprio una peggiole, ma... Ammazza oggi, ogni volta mi zubisci sempre di più Basta basta, basta, basta medo, bitte cercare wheremato che cazzo te ne prega tanto Questa là è la spuma, questa è la spuma poi abbiamo anche... Abbiamo anche la adidas, la snake e la snike, tur Cincinnati facciamo le scommesse guys scomentere ovviamente chi è presidente giustamente questa è una spumatomarchio della San Benedetto esatto mi raccomando iscrivetevi al nostro canale che va in onda appunto su Mediaset Premium no a Gardaland no iscrivetevi perché non c'è un perché allora ne viene in tasca colate bene la circonferenza e poi iscrivetevi esatto e niente no volevamo lanciare qualcosa volevamo lanciare un'idea no volevamo lanciare il nuovo disco però non ce l'ho più da lanciare mi sa che l'abbiamo già fatto in un video su Youtube ma probabilmente non lo caga nessuno ma racconto che video di 10 video ti stai facciando con la carica di video muti tra l'altro poi ti vuoi dire qualcosa dai dì dì no no è proprio ma siamo qua che secondo me no no dai no cos'è mi chiedo dai dai tipo le prime persone le prime persone quando non esistevano ancora i orologi non avevano ancora calcolato il tempo quando le giornate piano piano si allungavano loro pensavano di vivere più a rallentatore perché non capivano dicevano il giorno è dall'alba al tramonto si è proprio fumato un cannone fumiamoci un cannone dai quanto appoggia no ragazzi aspettate che aspetti chiedi alla polva non la capisce nessuno sai cosa stai facendo? beh questo niente mi serviva un fazzoletto per soffiarmi il naso ma dovrò fare diversamente e quindi scontava sai scontava se lo soffio se lo soffio se lo soffio ah filo soffio no però volevo far vedere una cosa una cosa che riflette proprio noi come siamo perchè questo riflette proprio noi noi siamo proprio così ma guarda che se noi lo mettiamo davanti alla videocamera chi guarda il video pensa spesso quindi non riflette noi ma tu hai intenzione di trovare si si provate a rifletterci su questa cosa mi raccomando se non si rompe ovviamente ascoltate la nostra canzone le nostre canzoni se qualche se qualcuno di voi cerca collaborazioni sia dal punto di vista musicale potete trovarle la no musicale comunque anche per video per minchiate di qualsiasi genere noi siamo sempre disponibili anche perchè si si ottimo questo anche perchè si tutti ci contatteranno esatto e poi mi raccomando la fan page su facebook spumacrew poi ha un nome lunghissimo comunque cercate spumacrew family e cercate bene perchè a volte si nasconde domani però si e vabbè creiamo creiamo i link più divertenti di facebook creiamo 15 minuti di video in soli due minuti restanti di videocamera si videocamera non so se si può dire vabbè se si può dire puttanate su youtube puttanate eh minchiate si può dire puttanate vabbè comunque dai vi dovete troppo iscrivere mi raccomando guardate il video che uscirà poco dopo di questo che appunto pubblicizza questa bevanda analcoliche di shakespeariana memoria si si e e basta e basta con questo un saluto a tutti quelli che hanno starnutite e questa non la capite ma è normale perchè si perchè noi dovete sapere che noi siamo i più simpatici del mondo dopo i cittadini ecco così diretti essendo noi i più simpatici voi i meno simpatici non riuscite a capire e così ci siamo giocati mille fan subito si 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 sono cose che si fan no vabbè e così si fanno tutti vai a fanno il culo comunque tutto questo è improvvisato non so se ve ne siete resi conto perchè che è molto si diciamo che è molto una cosa fatta da braccio e così importante si si invitate i vostri amici a diventare fan e il 60% dell'importo partiva no ma questo non gli importo a nessuno e e poi fateci un video di risposta dove anche voi presentate la vostra sfuma più fan più fan più fan ci 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 ci